Buonasera a tutti e tutte, intanto grazie a Ferdinando Cotogno di essere qua con noi per presentare il libro Primavera Ambientale, grazie anche a Chiara che mi accompagnerà in questa chiacchierata con Ferdinando. Io faccio una brevissima introduzione per spiegare le ragioni per le quali abbiamo deciso di inserire Primavera Ambientale in questo festival. Questo è un festival che parla di indipendenza e io credo che ci sia la necessità in questa fase storica di ridare al concetto di indipendenza un valore politico, dobbiamo ripoliticizzare questo tema e penso che il libro di Ferdinando, per certi versi, parli proprio di questo perché è impossibile immaginarci un nuovo mondo, una nuova rivoluzione se non partiamo proprio da che cosa siamo e perché siamo indipendenti. Quindi questa è una delle ragioni, il tema dell'indipendenza, non solo l'indipendenza energetica ma l'indipendenza come concetto politico e culturale. La seconda questione, oltre ovviamente alla stima che abbiamo per Ferdinando, risiede nel fatto che questo libro, rispetto a tante altre cose che parlano di ambiente, di clima, Primavera Ambientale esce un po' dal cliché della narrazione emergenziale. Noi abbiamo un problema di narrazione e soprattutto la narrazione emergenziale rischia di prestare, a mio avviso, il fianco a quella che è la narrazione del potere e invece abbiamo bisogno di desideri, di immaginazione, questo libro parla molto di immaginazione quindi anche di uscire dall'idea stessa di una narrazione emergenziale. Insieme a Chiara oggi di Fridays for Future Padova, vorremmo a Ferdinando alcune domande. Io parto con una domanda un po' di introduzione. I capitoli del tuo libro, Ferdinando, sono gli assi portanti di un pensiero ecologista che è complessivo, non è settoriale. Terra, umani, giustizia, conflitto, politica, noi. Bene, io ti chiederò di spiegarci anche con brevi parole chiave il perché e quali sono appunto gli assi di ragionamento che stanno attorno ai titoli dei capitoli. Grazie. Ciao, buonasera, buonasera a tutti e tutti, grazie per essere qui. Sì, il libro io l'ho immaginato proprio come un viaggio che parte dalla scala più grande e arriva alla scala più piccola, quindi parte dalla scala della Terra e qui è la parte fondamentale del discorso, questo problema, il problema del clima, il problema della crisi climatica può essere compreso soltanto se lo affrontiamo su una scala globale, soltanto se abbiamo l'ambizione di affrontarlo su una scala globale e quindi la scala di cosa sta succedendo al pianeta. Però questa non è più una storia ambientale, io penso che a un certo punto noi dovremo anche avere il coraggio di liberarci della parola ambientalismo, del concetto dell'ambientalismo di persone, di movimenti, di politica che si occupano dell'ambiente, dello scenario, dello sfondo, perché la questione della crisi climatica è essenzialmente innanzitutto la storia della gente, la storia degli esseri umani, è la storia dei popoli, è la storia delle condizioni in base alle quali si potrà ancora svolgere fra 1, 3, 5, 10 generazioni e la vita umana sulla Terra. E qui un altro tema chiave, quindi io ho il secondo capitolo è umani, ma in realtà il secondo capitolo è la frattura fra l'umano e il non umano, che è un altro dei grandi temi che noi dobbiamo incominciare a risolvere, l'idea che la natura sia altro da noi, sia un posto dove andiamo, dal quale ritorniamo, e non siamo invece noi, perché noi siamo innanzitutto natura, il primo luogo naturale nel quale si svolge l'esistenza del nostro corpo, e la crisi climatica è innanzitutto la crisi del nostro rapporto col corpo, fra il corpo e quello che abbiamo intorno a noi, il primo luogo di crisi climatica sono i nostri corpi, il primo campo di battaglia è il corpo. E poi c'è il tema del conflitto, il tema del conflitto è fondamentale, non esiste transizione ecologica senza conflitto, non esiste azione per il clima senza conflitto, innanzitutto il conflitto fra lo status quo, quindi la resistenza del capitalismo, del capitalismo fossile, dell'uso distorto delle risorse, è un'ondata di cambiamento che è quella che ho provato a definire primavera ambientale. E come si fa tutto questo? Lo si fa con la politica, e qui tu hai usato una parola che è fondamentale, che è politicizzazione, noi abbiamo bisogno di ripoliticizzare tutto, e abbiamo bisogno anche di riappropriarci della politica, dell'azione politica, poi magari ne parleremo di un'azione politica che abbia anche l'ambizione di prendersi le istituzioni, che non abbia una scala piccola, che non abbia scopi limitati, scopi esclusivamente locali, scopi esclusivamente di testimonianza, che non abbia paura anche di prendersi le istituzioni, di rivendicarle. E in questo secondo me i luoghi della democrazia sono luoghi che il movimento per il clima, la politica, la politica conflittuale deve riabituarsi all'idea di prendere, di potersi prendere. E poi l'ultimo, l'approdo è il noi, io, te, Chiara, tutti voi, è il nostro ruolo in questa storia, perché secondo me la chiave della crisi ambientale e di come ci si comporta in crisi ambientale, in crisi climatica, è che questa è una storia che ha di nuovo un ruolo per tutti e tutti. Ha di nuovo un ruolo per tutti e tutti, l'idea è anche un po' di base questo libro, che poi vedrete, se lo vedrete è un libro piccolo, è un libro breve, io l'ho strutturato come una lettera, come una lettera a tutti quelli a cui fosse venuto in mano, che l'avessero tenuto in mano e l'idea è partecipare, l'idea è partecipare. Questa crisi climatica è anche una gigantesca opportunità di partecipazione, di recuperare l'idea che alla società si può partecipare, si deve partecipare e che in questa partecipazione, su uno spettro che va dalle azioni individuali, dai comportamenti individuali, agli stili di vita, all'azione politica, all'azione politica anche la più conflittuale, richiede partecipazione e c'è un ruolo per tutte e tutti. Grazie Ferdinando, in questa lettera proviamo a immergerci, lo facciamo piano piano, lo facciamo dall'inizio, il primo capitolo si chiude con un riferimento a un attore che a me piace molto, Ciacrabarti, al libro Clima, Storia e Capitale. Tu scrivi, viviamo sia nel capitalocene che nell'antropocene, lungo la faglia tra la nostra storia inorganica e la nostra storia organica. Bene, sulla questione capitalocene, antropocene c'è stato un dibattito, c'è ancora un dibattito direi molto molto acceso e tu decidi di intersecare queste cose, ma io credo che all'interno di questo capitolo, ma in generale del tuo libro, si ponga una questione che è quella che i movimenti si stanno ponendo da tempo, quella delle responsabilità oggettive e soggettive rispetto alla crisi climatica. Ovviamente noi abbiamo un nome e cognome, il capitalismo, però probabilmente dobbiamo essere un pochino più specifici. Sì, innanzitutto magari affondiamo le mani in questa contraddizione, perché si parla di antropocene, antropocene ormai è una parola pop, è una parola estremamente utilizzata, anche magari non con tanta consapevolezza, l'idea che l'impatto della vita umana, dell'economia umana, delle attività umane sulla Terra abbia cambiato l'era geologica, quindi noi ora viviamo nell'era geologica dell'antropocene, in questo momento c'è una commissione di 40 esperti che sta cercando di stabilire qual è il punto esatto in cui si può identificare l'inizio dell'antropocene, perché in geologia le ere geologiche sono divise in modo molto esatto, c'è questa cosa che si chiama chiododoro, cioè l'idea che c'è uno strato, c'è un punto in cui puoi osservare fisicamente il momento in cui cambia l'era geologica. E la commissione di esperti ha il lavoro per capire, ma quando comincia l'antropocene, dove comincia, dove lo possiamo individuare fisicamente, e ci sono tutta una serie di ipotesi allo studio, il fallout degli esperimenti nucleari, oppure gli allevamenti intensivi, però questa è una parte della storia, perché la polemica che tu citavi è di chi dice, giustamente secondo me, non tutti gli esseri umani hanno causato questo cambiamento di era geologica, questa deprivazione delle risorse, questo inizio di distruzione del mondo, e quindi probabilmente non è all'essere umano, all'umano nella sua essenza, che noi dobbiamo attribuire il cambiamento di era geologica, ma è un determinato modo di produrre, un determinato modo di consumare, che ha appunto un nome specifico che è il capitalismo, e quindi per questo si parla di capitalocene. Probabilmente sono vere entrambe le letture, e in una situazione, in una realtà contraddittoria come quella in cui viviamo, dobbiamo essere in grado di abbracciarle entrambe, è la specie umana che ha determinato l'esistenza della specie umana, che sta determinando proprio il cambiamento di forma della Terra, perché noi viviamo proprio in un cambiamento di forma della Terra, che diventa irriconoscibile all'interno delle nostre biografie, che è una delle grandi difficoltà del Movimento per il Clima, è uno dei grandi messaggi del Movimento per il Clima, ed è una cosa alla quale tantissime persone che non si definiscono ecologisti, ambientaliste, rispondono, l'idea è che tu nasci in un mondo, e poi cresci in un mondo che è irriconoscibile, che non riconosci, prima parlavo con una persona che mi diceva io in questo momento voglio sciare il più possibile, perché non so se fra dieci anni potrò ancora sciare, e questo è un cambiamento che determina proprio una distrutturazione della nostra anima, e questo vale che tu sia una persona che ama le montagne, vale che tu sia un pescatore, vale che tu sia un contadino, e questo è sicuramente l'antropocene, ma se noi vogliamo vedere le cause, quindi vogliamo avere un discorso che faccia la cosa che secondo me i media e la politica fanno di meno in Italia, cioè collegare gli effetti alle cause, quindi capire perché sta succedendo questo, perché i ghiacciai muoiono, perché la criosfera italiana sotto una determinata altitudine è condannata a morte, e a quel punto quando facciamo un discorso sulle cause l'unica parola che possiamo usare è capitalocene, e la responsabilità non può essere che attribuita a questo sistema di consumare e produrre, che è basato sul nascondere i costi, sul nascondere i costi ecologici, sul nascondere i costi sociali, e sull'accumulare debito, accumulare debito attraverso le generazioni, una dopo l'altra, finché questo debito non diventa un ghiacciaio che collassa sopra gli escursionisti che stavano camminando la scorsa estate in marmolada. E quindi sì, capitalocene è una parola probabilmente più specifica, più adatta, proprio perché non crea delle responsabilità indistinte tutti gli esseri umani, non tutti gli esseri umani, ma gli esseri umani che vivono in un sistema di produzione capitalistico, quindi innanzitutto chi prende vantaggio da questo sistema, ma perché c'è una scala di responsabilità, uno dei temi del mio libro, come dicevi, è la responsabilità, ma anche la scala delle responsabilità, ed è chiaro che più aumenta il tuo profitto da questo tipo di sistema di produzione e consumo, più aumenta la tua responsabilità, ed è una cosa direttamente proporzionale e sicuramente e inevitabilmente il discorso sul clima ci permette di fare una cosa che nella nostra società piano piano era diventata un tabù e oggi di nuovo non lo è più, cioè ridiscutere il capitalismo, rinegoziarlo, capire che ruolo può avere, e appunto c'è la famosa frase è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo, che ormai è una frase pop, una frase che è stata così costantemente ripetuta che ha perso di significato, ma lo recupera nel momento in cui il paradosso, cioè l'impensabile, la fine del mondo diventa reale, diventa il contesto in cui ci troviamo, e quindi ora che facciamo, ora che c'è la fine del mondo, che è la fine del mondo, cioè la fine della vita umana, perché poi ricordiamo, come dicevamo prima, che questa è la storia degli esseri umani, non è la storia del mondo come luogo fisico, non è la storia del pianeta terra, è la storia della possibilità della vita sul pianeta terra, e cosa facciamo quando davvero è arrivata alla sua fine, a quel punto siamo disposti o non siamo disposti a rinegoziare il capitalismo? Intanto ciao a tutti e a tutte, tu all'interno del libro utilizzi l'espressione punto di rottura, quando un individuo sceglie di non voltarsi più dall'altra parte, quindi volevo chiederti qual è stato il tuo punto di rottura personale, e soprattutto come l'hai vissuto, perché tu parli anche di diverse fasi, la fase della frustrazione, la fase della solitudine, è una domanda bellissima, in questi anni di lavoro con i movimenti, osservando la politica da giornalista, quindi un po' dentro, un po' fuori, la mia mente è diventata una specie di catalogo di punti di rottura delle persone, perché a un certo punto con la newsletter che faccio, con gli incontri come questo, si arriva sempre a quella domanda, ma tu quando te ne sei accorto che tutto questo non andava più bene, che tutto questo stava crollando, in che momento ti sei accorto del momento del collasso? E quindi io conosco i punti di rottura di tantissime persone, li custodisco sempre, ed è sempre un momento molto carico, molto emotivamente intenso, quando qualcuno mi racconta il suo punto di rottura, e mi capita poi sempre di pensare al mio, in che momento io mi sono accorto che il mondo stava collassando, ed è stata una cosa in più tempi, è stato un progressivo avvicinarmi all'idea che il collasso fosse una cosa reale, e che fosse una cosa che rappresentava un'opportunità, rappresentava una specie di momento di rinascita, e per me l'inizio è abbastanza datato, ed è politico, perché Genova 2001, in quel momento, io appartengo proprio come Antonio, alla generazione di Genova 2001, il messaggio dell'esito di quella vicenda, di quella vicenda che era così in anticipo sui tempi, come lettura della società, come lettura della realtà, era non ci provate nemmeno a cambiare il mondo, non ci provate nemmeno, dimenticatevelo, lasciate perdere, perché a un certo punto la società troverà un posto per voi, e secondo me il grande cambiamento politico, che c'è ora, che c'è in questa sala, che c'è nei movimenti per il clima, è innanzitutto che la società ha smesso di essere in grado di offrire quel posto, e storicamente i movimenti sono sempre stati riassorbiti nella società, perché la società appunto diceva, vabbè lascia perdere, lascia perdere, ok hai avuto quella fase che è generazionale della tua vita, ti sei ribellato al sistema, ora il sistema ti offre qualcosa, e questo sarà il nostro patto, tu rientri, la smetti di rompere i coglioni, e noi ti daremo qualcosa in cambio. E a un certo punto questa società, la nostra, quindi la società del collasso economico, perché il collasso economico e quello ecologico sono la stessa cosa, ha smesso di poter offrire questa cosa. E quindi per me l'inizio del collasso è stato quando io ero ancora una generazione a cui la società poteva dire, si vieni qua e ti offriremo qualcosa. Oggi questo non è più possibile, lo osservo in generazioni come la tua, e questo è una cosa che ha un enorme potenziale, secondo me. Poi il mio punto di rottura è ecologico, quindi c'è un punto di rottura sociale e poi c'è un punto di rottura ecologico. E io l'ho osservato durante un viaggio che ho fatto alle isole Svalbard, che sono un posto estremamente remoto, estremamente settentrionale, sono un arcipelago fra il nord della Norvegia e il polo nord, dove ero andato per fare un reportage, e per me era il posto più freddo che avessi visto in tutta la mia vita. Io ci sono stato d'inverno, all'inizio dell'alba artica, e per me era un freddo impensabile, era un freddo fuori scala, era il posto del freddo, era così freddo che il telefono cellulare non riusciva a stare in mano perché si scaricava, e quindi collassava proprio la tecnologia, ma contemporaneamente non era abbastanza freddo. Non era abbastanza freddo e l'assenza del freddo, del freddo necessario, del freddo che doveva esserci lì dove ero, io l'ho vista rispecchiata nelle persone. La cosa che mi colpì di quel viaggio, al di là degli scenari, dei paesaggi, del ghiaccio, degli orsi polari, fu il fatto di aver visto persone terrorizzate, persone proprio terrorizzate. Quando si parlava di clima, di ambiente, di crisi climatica, io ci sono stato nel 2018, vedevo proprio la paura negli occhi delle persone, e lì era un arcipelago sostanzialmente di sfruttamento minerario, quindi paradosso nel paradosso, si estraeva carbone, lì erano tutte miniere di carbone, e oggi è un avamposto di ricerca scientifica, oltre che di un turismo particolarmente predatorio. Però la verità è che lì ho parlato soprattutto con scienziati, quindi con persone che avevano la consapevolezza, che sapevano unire i puntini, ed erano proprio, vedevo proprio la paura nei loro occhi. E questa cosa qui mi ha proprio fatto pensare, questa è la storia, questa è la storia del mondo, questa è la storia della gente, questa è la storia che va raccontata, ed era il 2018, quindi era in parallelo con l'inizio di questa nuova fase politica, di questo nuovo ciclo, il 2018 c'è il primo show pro di Greta Thunberg, c'è la prima ribellione di Extinction Rebellion a Londra, quella autunno, quindi è un anno in cui succedono molte cose, ed è un anno in cui il mondo, dal punto di vista della politica, soprattutto in Europa, ha un reboot, ed è appunto anche il momento in cui in Europa e poi anche in Italia, l'anno successivo, ricominciano a nascere, a crescere dei fiori in quel cratere che c'era stato dopo Genova 2001, e io lì in quel momento ho deciso, ok, se io ho una funzione nella società, che è quella di fare il giornalista, e voglio raccontare tutte le storie collegate alla paura negli occhi che ho visto qui, perché questa è la storia del presente, questa è la storia del mondo che collassa, ed è questa la storia di un collasso che non potrà essere più semplicemente riassorbito offrendo un posto nel sistema, perché anche quel sistema che era in grado di offrire posti non è più in grado di offrire posti, non è più in grado di offrire niente. Hai citato Genova 2001, racconto un aneddoto, due anni fa, quando c'è stato il ventennale di Genova, avevamo organizzato alcuni dibattiti al festival di Sherwood, quello estivo, e un attivista dice noi probabilmente dobbiamo approcciarci a questi vent'anni che sono passati dal Genova dicendo basta la frase, avevate ragione voi, prendiamoci questa ragione e proviamo a scalzare un po' insomma chi pensa di darci ragione. Detto questo, io continuerei un po' questo viaggio nel tuo libro, e nel capitolo giustizia parli di una, parti in realtà da una situazione che è molto specifica, è in realtà poco conosciuta, è un villaggio in Uganda, si chiama Katogo, in realtà è un insediamento spontaneo che è nato alla periferia della capitale dell'Uganda, che dal 2018 è diventato praticamente un territorio anfibio in seguito a una serie di alluvioni dovute alla costruzione di un sistema di dighe enorme nella parte meridionale del bacino del Nilo e tu dici, ti chiedi, ma chi deve sostenere i costi per far sopravvivere Katogo e le persone che ci abitano? Io la estenderei come del resto hai fatto tu, ma chi deve sostenere i costi della giusta transizione ma soprattutto come possiamo imporre ai responsabili di sostenere i costi della giusta transizione attraverso quella che è probabilmente la più grande battaglia della storia contro le disuguaglianze sociali. Questo è il macro tema, qui ci vorrebbe veramente un convegno più che una risposta per rispondere. quel villaggio io ci sono stato l'anno scorso e lì ho davvero visto la parola anfibio come in certi luoghi della terra la vita sta diventando proprio anfibia l'acqua si sta mangiando la terra ed è uno degli sconvolgimenti che stanno diventando ormai la vita quotidiana in tantissimi angoli della terra e l'Uganda peraltro è un paese africano peculiare perché è un paese diciamo della classe media africana non dei più avanzati economicamente non dei più disperati ed eravamo alla periferia di Campala della capitale e io ho visto questo villaggio dove tutto era stato mangiato dall'acqua e l'acqua non se ne andava più quindi l'acqua della stagione delle piogge che ormai erano completamente fuori scala che semplicemente non aveva più spazio per ritirarsi e quindi la scuola del villaggio la moschia di questo villaggio tutti gli edifici avevano questo strato di acqua che semplicemente era diventato parte della vita quotidiana e c'era il governo aveva questo programma di reinsediamenti per spostare queste persone di questo insediamento informale e non se ne volevano andare loro perché non si fidavano perché temevano loro già stavano pagando i costi della crisi climatica globale e temevano di pagare i costi anche localmente temevano che semplicemente sarebbero stati completamente dimenticati da un'altra parte quello era il posto dove vivevano ed era la loro unica certezza nel mondo e in cambio non gli veniva offerta nessun'altra certezza e secondo me in quella storia lì c'è la storia una storia che possiamo replicare e recuperare anche in Italia anche per esempio sui settori industriali in Italia chi paga i costi della transizione è la domanda perché la giusta transizione cos'è rispetto a una transizione è una transizione che non distrugge la società perché noi ricordiamo che abbiamo il compito e questo è il mandato che ci dà la scienza quindi è un compito non negoziabile di dimezzare le emissioni di gas serra entro la fine di questo decennio ormai si continua a dire alla fine di questo decennio come se avessimo un decennio intanto siamo nel 2023 quindi non abbiamo più un decennio ormai sono sette anni quindi è un cambiamento brusco oltre che radicale perché dimezzare le emissioni è un cambiamento radicale un cambiamento radicale che implica qualunque pezzo della società deve cambiare radicalmente ed è un cambiamento brusco perché il tempo è pochissimo e questa combinazione è molto pericolosa è molto pericolosa e la storia europea ci insegna che quando questa transizione viene fatta nel modo sbagliato provoca proteste contro la transizione è il caso dei gilet gialli in Francia che protestavano contro una misura che aveva un carattere ecologico cioè le tasse sui carburanti è esattamente la prova di come c'è un tassello fondamentale della transizione che è un tassello politico che è il consenso e quindi la transizione o avrà consenso o semplicemente non accadrà non ci sarà nessuna transizione e quindi chi pagherà i costi di questa transizione è una domanda alla quale io non ho la risposta so chi li dovrebbe pagare so chi li dovrebbe pagare le aziende soprattutto energetiche che hanno accumulato enormi profitti e gigantesche risorse e avrebbero le risorse per aiutare le società ad affrontare i costi di questa transizione ma il punto è come spingerle a pagare non chi deve pagare chi deve pagare è anche una domanda abbastanza con una risposta abbastanza evidente la vera domanda è come si spinge chi dovrebbe pagare a pagare davvero e questa cosa è la politica questa cosa è la politica soprattutto la politica dei movimenti la politica dal basso che aumenta il consenso verso la transizione perché aumentando il consenso quindi rendendo un fatto acclarato anche al di fuori delle nostre bolle che tutto questo deve accadere che nell'interesse di tutti e tutti che questo dimezzamento e poi zeramento delle emissioni accada poi rende possibile anche presentare il conto e quindi il lavoro che stanno facendo i movimenti non solo di protesta ma anche di divulgazione sensibilizzazione in tutto questo è fondamentale poi la transizione secondo me avrà due pezzi che sono entrambi i pezzi fondamentali avrà un pezzo che verrà dall'alto quindi saranno leggi regolamenti tasse sul carbonio grandi investimenti il PNRR il Green Deal europeo e avrà un pezzo che verrà dal basso avrà un pezzo che verrà dal basso che sarà fatto di costruzione di comunità sarà fatto di movimenti sarà fatto di nuove pratiche ed entrambi i pezzi sono fondamentali e secondo me il dosaggio di alto e di basso sarà quello che determinerà la giusta transizione la giustizia nella transizione perché se la transizione sarà solo dall'alto spaccherà la società è inevitabile che la spacchi se la transizione sarà solo dal basso da sola non avrebbe la forza di farlo ma un grosso dosaggio di pratiche dal basso sarà il principale elemento correttivo per evitare che una transizione così brusca e radicale distrugga la società e poi replichi i modelli economici che hanno causato tutte queste strutture perché la nostra grande missione non è solo fare la transizione ma anche evitare che in un mondo in transizione si replichino i modelli che hanno distrutto il mondo perché l'economia del futuro ha ingredienti distruttivi altrettanto pericolosi dell'economia del passato e quindi senza elementi di correzione politica e sociale dal basso rischiamo soltanto di spostare il debito ecologico e le diseguaglianze su altre fonti di energia noi non possiamo semplicemente convertire ogni automobile in un'automobile elettrica non dobbiamo semplicemente cambiare la caldaia del mondo qui qui dobbiamo riscrivere le regole di funzionamento del mondo altrimenti il mondo del 2050 magari avrà meno emissioni ma sarà altrettanto ingiusto di quello attuale e o usiamo questa opportunità per riscrivere la quota di diseguaglianze nel mondo o non ci sarà più nessun'altra opportunità per farlo sempre nei capitoli umani e giustizia tu utilizzi due espressioni che per me sono molto potenti perché offrono un'altra prospettiva un'alternativa a quello che è sempre stato narrato la prima espressione riguarda il capitalismo tu dici che il capitalismo è un'educazione malsana e quindi mostri come noi siamo stati educati a questo utilizzo di risorse e che la crisi climatica è un'infezione tra la rottura tra l'essere umano e l'onumano e io volevo approfondire con te queste due espressioni che secondo me veramente possono essere un nuovo modo per osservare quello che abbiamo attorno e forse rompere quella bolla di cui parlavi prima sì perché secondo me la crisi climatica è un sintomo è un sintomo nel suo essere pericoloso nel suo star distruggendo la possibilità della vita umana sulla terra è anche prezioso perché ci aiuta a capire una serie di cose che erano già lì che erano lì da decenni ma diventano improvvisamente più chiare la crisi climatica è come se fosse il luminol delle diseguaglianze cioè questa sostanza che ti permette di vedere il sangue lì dove il sangue non si vede ma c'è e ti permette di capire quanti punti di frattura noi abbiamo tollerato considerandoli inevitabili la principale forza del capitalismo è stata la sua pretesa di inevitabilità e in questo momento storico questa pretesa di inevitabilità sta sta scricchiolando e questa secondo me è la questione fondamentale è probabilmente la principale opportunità della crisi climatica come sistema di riscrittura della società perché perché secondo me la vera chiave il vero tema del movimento per il clima è la felicità è il discorso sulla felicità e noi viviamo non solo in una delle società più ecologicamente nella società più ecologicamente nociva che sia mai esistita ma anche in una delle società più infelici che siano mai esistite noi no società con tutti gli indicatori sul benessere mentale e psicologico delle persone nelle società avanzate più ricche e più nocive sono tragici il tasso di suicidi il consumo di psicofarmaci noi viviamo non solo abitiamo in un mondo rotto ma anche le nostre menti sono rotte anche le nostre anime sono rotte e il collasso nostro personale il collasso di tutte le persone che osservo intorno a me e il collasso ecologico hanno la stessa radice e secondo me politicamente il discorso riuscirà a uscire dalla bolla quando riuscirà a toccare e a unire puntini di tutta una serie di temi che in questo momento sono evidenti cioè in questo momento la grande messa in discussione del tema del lavoro per esempio di cosa deve essere il lavoro nella società di cosa deve essere il lavoro nella vita delle persone di che sacrifici noi dobbiamo essere disposti per essere costretti a lavorare è collegatissimo al tema della crisi climatica e sono entrambe infezioni della stessa malattia che è il capitalismo che in questo momento è in una fase molto avanzata della sua distruzione quindi è in una fase in cui o inizia la cura ora o appunto come si diceva prima non potrà più iniziare ed è proprio questo che permetterà a questi movimenti a queste idee di uscire dalla bolla di andare a evidenziare tutta una serie di problemi e di fratture che tantissime persone che non hanno una vita politica e che non hanno mai pensato di partecipare alla vita politica della propria società del proprio paese però stanno sperimentando e proprio evidenziare le cause ed evidenziare come i due modelli e sistemi di collasso abbiano la stessa origine e in questo secondo me dobbiamo distinguere da questo punto di vista la causa che è un determinato modo di produrre accumulare risorse e di estrarre risorse e le conseguenze quindi collasso ecologico crisi climatica collasso sociale infelicità perché è tutto collegato e tutto viene dallo stesso punto e passiamo a un altro capitolo che è un tema in realtà che da queste parti c'è molto caro quello del conflitto mi piace molto un'espressione che usi in cui dici serve un gigantesco atto creativo perché questa primavera non è una rivoluzione che può rovesciare un dittatore non è la presa del palazzo d'inverno non è una zona rossa da invadere e sono molto d'accordo perché stiamo parlando del clima di qualcosa che spesso viene percepito come astratto fino a quando poi dopo non ce l'ho la crisi climatica non ci bussa in maniera forte alle porte di casa nostra anche il titolo del libro Primavera ambientale a me piace perché si riferisce almeno io credo immagino alla prima volta che è stato utilizzato il termine primavera nella storia politica che è la primavera dei popoli quella spallata che viene data nel 1848 all'anzian regime e quindi mi immagino questo atto creativo come una spallata che può essere una sollevazione globale con tanti punti di applicazione contro il capitalismo estrattivo però qua ci pone io credo che si ponga una questione ossia la dialettica tra conflitto e politica tra momento destituente perché io credo abbiamo la necessità di un momento destituente di questa spallata come viene data nel 1848 all'anzian regime e il momento costituente come ce lo immaginiamo quindi immagino che questo atto creativo stia in questa dialettica sì sì assolutamente poi la primavera è la primavera anche la primavera silenziosa di Rachel Carson quindi il libro che in qualche modo è fondativo dell'ambientalismo occidentale contemporaneo ma sì tutte le primavere politiche che ci sono state nel corso dei secoli e in questo momento la grande sfida secondo me è indirizzare il conflitto il punto non è il dosaggio di conflitto il punto non è nemmeno fino a che punto noi siamo disposti a spingerlo è evidente che data la situazione in cui ci troviamo in questa società c'è troppo poco conflitto c'è un'assenza di conflitto rispetto alla proporzione della catastrofe alla quale stiamo assistendo e soprattutto all'idea del fatto che noi viviamo in un mondo che le sue catastrofi peggiori non ce le ha ancora mostrate perché noi siamo soltanto all'inizio del collasso noi siamo nemmeno al primo capitolo noi siamo alla prefazione del collasso questo è un mondo per quanto mi e ci possa far paura è un mondo di 1.1 1.2 più caldo dell'era preindustriale e noi sappiamo che supereremo 1.5 e a polisi attuali rischiamo di superare tutti i parametri dell'accordo di Parigi quindi tutti i parametri di sicurezza quindi questo è per dire che la siccità la scomparsa dell'acqua dall'Italia la scomparsa della neve il collasso dei ghiacciai non sono niente rispetto a quello che rischiamo di vedere a quello che vedremo e quindi il conflitto serve il conflitto deve essere anche normalizzato probabilmente servono anche strategie innovative di conflitto come quelle che secondo me i movimenti stanno mettendo in campo c'è tutto un discorso da fare che è molto complesso magari questo non è il momento sulla violenza su cosa è la violenza su cosa è la violenza politica su cosa è la violenza del sistema nei confronti dei cittadini su quanto livello di violenza abbiamo interiorizzato ormai abbiamo normalizzato da parte del sistema nei nostri confronti però c'è anche poi il problema della parte di costruzione che secondo me è la parte più importante della primavera ambientale che immagino perché secondo me quello che è richiesto oggi per uscire dalle bolle per allargare il consenso è un gigantesco atto di immaginazione perché secondo me l'azione per il clima oggi è un grandissimo problema che è fatta per scadenze è fatta per compiti quindi quello che noi dobbiamo noi tutti dobbiamo fare entro il 2030 quello che si diceva prima di mezzare le emissioni che poi è anche un compito nella realtà concreto ma anche molto astratto politicamente o a zerare le emissioni nel 2050 o contenere l'aumento di temperature prima di fine secolo però il problema è che non si parla mai abbastanza di cosa succederà dopo di come sarà questo mondo nel 2051 e come sarà non soltanto l'economia o l'energia ma anche come sarà la società come saranno i rapporti di lavoro come sarà il tempo libero come saranno le relazioni e secondo me questo è un grande sforzo di immaginazione che non è ancora iniziato che ha un enorme potenziale perché può essere davvero rigenerativo e rifondativo per tutta la politica progressista per tutta la politica che appunto a generazioni come la nostra gli era stato detto non ci provate nemmeno ma ora ci dobbiamo provare ora è il nostro compito provarci e immaginare com'è il mondo del 2051 e fare quello che a tante generazioni prima della nostra era considerato normale quello che era la politica cioè immaginare un futuro diverso e costruirlo quel futuro e gettarne le basi e gettarne delle basi ambiziose e secondo me questo è esattamente il compito le parole chiave sono quelle che dicevi tu all'inizio immaginazione perché serve tantissima immaginazione politica in questo momento e l'immaginazione è una cosa divertente perché è una cosa davvero creativa che permette a tutti di partecipare di dare il proprio contributo perché non c'è mai una sola realtà della lettura della realtà che sarà sufficiente servirà davvero il contributo di tutti e di tutti i movimenti ed anche il senso in cui il clima può mettersi a disposizione di tutte le altre battaglie delle battaglie antirazziste delle battaglie per i diritti delle battaglie transfeministe perché tutte possono convogliare in questo sforzo di immaginazione perché tutti questi livelli della società e della realtà saranno coinvolti nella creazione di questo mondo desiderabile che è quello che deve esserci in cambio della transizione perché la transizione non sarà facile abbandonare tutto il modo in cui abbiamo vissuto non è una cosa facile serve qualcosa in cambio e questo qualcosa in cambio è proprio questo sforzo di immaginazione per la costruzione di un mondo nuovo c'è una frase che mi piace moltissimo che viene da un romanzo che non parla di clima ma di sport che è di Underworld di Don De Lillo nel capitolo iniziale che parla di una famosissima partita di baseball dice questa frase che secondo me è molto adatta al movimento per il clima che sono i desideri su vasta scala che fanno la storia e in questo momento abbiamo davvero bisogno di desideri su vasta scala abbiamo davvero bisogno dell'ambizione del desiderio di desiderare cose inimmaginabili impensabili e cominciare davvero a scriverle e questo è davvero il passo successivo perché ora ci siamo i movimenti Fridays for Future a oggi sono stati i messaggeri della scienza quindi della scienza del collasso delle scienze dure la fisica la glaciologia l'oceanografia in questo momento però serve andare oltre quel messaggio e dire ok questo è il messaggio il mondo che dobbiamo abbandonare ci è stato detto perché dobbiamo abbandonarlo e cosa rischiamo ma qual è il mondo al quale stiamo andando incontro e questo è proprio il compito della politica e secondo me in questo decennio in questi anni in questi mesi in queste settimane c'è davvero il potenziale di scrivere la storia dei decenni a venire che è anche un privilegio secondo me che è anche un privilegio che avevano probabilmente probabilmente in Italia questo privilegio così forte non c'era dalla generazione dei partigiani ed è un privilegio che hanno queste generazioni qui soprattutto le persone di vent'anni ed è la questione come si scrive questo mondo nuovo e quali sono i contenuti di questo mondo nuovo sempre parlando di politica tu scrivi appunto come sia necessario trovare un ponte tra i movimenti l'attivismo e i partiti hai detto partiti ed è sparito il microfono partiti tradizionali quello che mi domando però oltre al problema di personalizzazione che ha la forma partitica l'entrata nelle istituzioni dei movimenti per il clima possa non portare a una messa in discussione della forma di far politica che abbiamo che è una post-democrazia quindi come questa immaginazione politica si possa anche sfaccettare e un po' strutturare in diverse dimensioni questo è forse la parte più contestata del libro che ho scritto e una delle cose che penso davvero è che i partiti sono un formidabile strumento di azione per il clima sono importanti quanto le turbine eoliche sono importanti quanto le nuove diete sono fondamentali e vanno rivendicati e secondo me la politica la politica che state facendo che è politica su bassa scala ambiziosa si è sempre fermata un metro prima delle istituzioni e in qualche modo ha sempre avuto paura delle istituzioni come se fosse qualcosa di altro qualcosa che ti spersonalizza qualcosa che ti fa perdere la tua anima e che ti costringe poi a diventare come tutti gli altri e secondo me questa è una paura che va superata perché è esattamente il tipo di paura tossica che un certo sistema vuole dare alle persone giovani cioè l'idea che tanto tu parli così perché sei in un movimento ma se tu dovessi governare saresti come noi questo è un po' il messaggio che viene lanciato e secondo me questo è un messaggio che va rovesciato perché è il messaggio di tutte le relazioni tossiche è anche il messaggio delle coppie tossiche è il messaggio delle relazioni tossiche sul lavoro l'idea che tanto non c'è niente che tu possa fare che davvero cambierà le cose perché le cose sono così perché devono essere così e questa è una cosa totalmente non vera e quindi il mio invito è sempre partecipare alle istituzioni e noi ora in parte lo stiamo vedendo però lo stiamo vedendo con singoli attivisti e attiviste che fanno percorsi personali all'interno dei partiti che già esistono soprattutto a livello locale però l'attivista singolo che va a fare il suo percorso politico inevitabilmente finisce divorato dal sistema che per quanto un attivista possa essere radicale formato con un forte senso di giustizia da solo da solo contro il sistema finisce divorato e per questo che la massa critica che si è creata con i movimenti secondo me deve replicarsi anche al confronto con le istituzioni come si faccia questo concretamente non lo so anche quando tu dici la personalizzazione che c'è nei partiti ma non è detto che sia così non è scritto da nessuna parte è stata una determinata forma politica che noi ci siamo abituati a considerare come normale ma perché apparteneva ad altre generazioni forse anche ad altri sistemi mediatici non è detto che sia così io penso che in questo momento nella società italiana proprio in quella italiana c'è una domanda di radicalità che è dormiente che è dormiente nelle crepe della società e che va solo risvegliata ed è una domanda di radicalità di azione politica radicale che c'è nell'economia che c'è nei rapporti del lavoro che c'è nell'ambiente che c'è nei diritti e che non ha nessun interlocutore politico e non ne avrà nessuno finché questa generazione non deciderà di diventare l'interlocutore politico e se aspettiamo che lo facciano i partiti tradizionali nella forma che hanno ora con questi lunghissimi estenuanti congressi come quelli del non so se si spegnerà il microfono ora che lo dico partito democratico è chiaro che tutto questo si fermerà sempre fino a un certo punto e comunque l'invito che faccio il libro è stato scritto in estate poi ci sono state la caduta del governo le elezioni la vittoria dei fratelli d'Italia e quello che mi chiedo è come è possibile che in questi cinque anni tutto il lavoro che avete fatto tutto il lavoro di attivazione di elaborazione di concettualizzazione di partecipazione le piazze piene il tema che diventa un tema così centrale e poi sparisce dalla campagna elettorale è la prima volta che si va a votare da quando esistono tutti questi movimenti ci troviamo un governo post fascista totalmente non interessato al clima che non partecipa nemmeno alle conferenze sul clima cosa è andato storto e secondo me inevitabilmente è andato storto che la partecipazione si è fermata un metro prima di dove le cose si cambiano davvero perché le istituzioni non appartengono ai politici che ci sono ora loro sono quelli che se le sono prese le istituzioni ma le istituzioni sono nostre e a un certo punto è inevitabile che devono essere rivendicate e devono essere prese la forma non la posso scegliere io perché sono già di un'altra generazione il mio invito il contenuto della lettera era ponetevi il problema di portare il discorso fino in fondo fin dove davvero si cambiano le cose perché ne avete davvero il potenziale e Fridays for Future ultima generazione Extinction Rebellion ma come anche i movimenti che si occupano di diritti di transfeminismo di antirazzismo non solo cambiano la società ma sono anche una formidabile scuola di formazione di una futura classe dirigente io quando vedo i giovani di Fridays for Future penso questa è la classe dirigente di domani perché sono persone non solo con idee politiche radicali ma anche con un patrimonio di competenze di conoscenza della realtà di visione gigantesco e il punto è dove andrà questa classe dirigente chi se la prenderà si farà cooptare o deciderà da sola i propri termini in cui vorrà essere classe dirigente e secondo me è in questa domanda qui che c'è la necessità di affrontare le istituzioni nei vostri termini con il vostro linguaggio e con le vostre idee ed è chiaro che non le potrete ignorare ancora a lungo perché ormai avete l'età avete le conoscenze avete le competenze il punto la domanda non è se sarà fatto ma come sarà fatto in che condizioni in che termini bene grazie Ferdinando purtroppo ci stiamo avviando verso le conclusioni però io adesso faccio una domanda a tutti e due Chiara smette di essere co-conduttrice e diventa come attivista anche partecipe alla risposta e prima di porre questa domanda vorrei fare una carrellata a parte da quello che avete detto da quest'ultima parte di ragionamento che è interessante come dicevi tu stesso è molto controverso in questo bel dibattito abbiamo parlato spesso del ruolo dei movimenti del rapporto tra conflitto e politica di possibili nessi istituzionali ma anche della possibilità a mio avviso di costruire immaginarci lottare per istituzioni autonome qua uso un termine che è caro soprattutto al postoperaismo ma non solo perché è un tema importante questo e questo va letto ovviamente in una cornice che è quella di una crisi climatica che è una crisi sistemica tu prima facevi riferimento alle connessioni che non sono naturali non sono spontanee ma vanno cercate poi nel modo di far politica tra il transfemminismo le lotte antirazziste le battaglie sul lavoro direi e aggiungerei quelle sul reddito per il reddito perché questa sarà deve essere una battaglia a mio avviso pienamente inserita nel campo dei conflitti per il clima e tutto questo ovviamente si aggiunge la crisi non tanto della politica o solamente dei partiti ma proprio dello Stato moderno o quantomeno di quello che abbiamo conosciuto quantomeno a partire dalla rivoluzione francese quindi quella democrazia parlamentare ed è un tema anche questo vediamo questa guerra è il prodotto della crisi dello Stato moderno poi accade una cosa è accaduta una cosa alcune settimane fa che io credo parli tantissimo a tutte le persone a tutti noi a chi parla da questo palco a chi assiste avviene in un piccolo paesino della Germania che si chiama Luzerat in un villaggio che è stato spazzato via un po' simile per certi versi a quello che accade in Uganda però accade nel cuore della della locomotiva d'Europa accade in una zona ad alto livello produttivo e a Luzerat si combinano una serie di cose perché è la somma di un processo di lungo periodo poi ce lo racconterete che cosa è accaduto in breve c'è una comunità che è diventata sempre più grande che si opposta prima in forma piccola poi in forma sempre più grande sempre più radicale all'allargamento di una miniera della più grande miniera e tutto questo ha un nome e cognome si chiama RWE che è uno dei colossi energetici tedeschi e non solo tutto questo mentre il governo tedesco prometteva la transizione la fine delle energie fossili entro il 2030 ebbene alcune settimane fa 30.000 persone danno vita a una battaglia che probabilmente nessuno si immaginava quantomeno in quei termini fa il giro del mondo c'è un'immagine che è girata io cito una frase che mi è piaciuta molto di un giornalista Nicolás Lozzito a proposito di Greta Thunberg che viene portata via dalla polizia dice questa è l'immagine che cambia la storia dei movimenti climatici e questo è un tema perché l'iconografia è importante oltre all'iconografia però c'è il portato di una lotta bene io chiedo a Chiara da attivista Ferdinando come osservatore come giornalista che cosa possiamo aspettarci non tante altre luzzerat ma come questa cosa può cambiare in questa fase storica molto problematica in vista anche dello sciopero di Fridays ad esempio che è un passaggio come può cambiare la prospettiva dei movimenti climatici e sociali in generale allora io credo che adesso non possiamo ancora vedere gli effetti di quella immagine credo che potremo vederli sicuramente una prima chiave di lettura è stata quella della quella della radicalizzazione che è anche forse dell'istituzionalizzazione quindi quasi un dibattito aumentato questo dibattito di cui appunto abbiamo parlato prima la seconda chiave di lettura che secondo me è forse la più importante è che quella immagine ha dimostrato che la crisi non è soltanto climatica ed ecologica sociale e forse anche umanitaria perché comprende l'umanità in qualche modo quindi quindi quell'immagine ha dimostrato che tutte le lotte sono interconnesse e dobbiamo trovare un modo per unirci e veicolare al meglio il nostro messaggio citando anche una frase di Ferdinando sì ma tu cosa vuoi io voglio salvarmi quindi quella lotta e quell'immagine di Greta simboleggia il salvarci io aggiungo soltanto il paradosso che è Greta Thunberg che fa politica da quanto cinque anni è la prima volta che è stata fermata dalla polizia e portata via da due poliziotti e con un governo con i verdi al potere che è veramente uno di quei paradossi che uno di quei paradossi del presente che ti fanno capire anche quanto la politica deve cambiare quanto quello che noi siamo le categorie politiche tradizionali vadano in qualche modo riscritte secondo me l'Utzerat è importante perché apre un nuovo ciclo per i movimenti per il clima e dimostra una cosa sulla quale forse qualcuno incominciava ad avere qualche dubbio che è la capacità di mobilitazione cioè aver portato 30.000 persone più di 30.000 persone da tutta Europa nel nulla in un posto completamente nel nulla in Renania è una cosa di una dimensione che forse non abbiamo colto è come portarne 500.000 in piazza a Roma portarne 30.000 in quel posto lì e questo dimostra che c'è ancora tanto ascolto per questo movimento che questo movimento si sta rigenerando che ha una capacità di mobilitazione che lo rende anche ed è un'altra cosa che non si sottolinea abbastanza molto longevo perché noi parliamo del 2018 che è una vita fa quando nasce tutto questo 2018-2019 siamo nel 2023 e i movimenti non sono così longevi i movimenti non durano così a lungo e se questo movimento è ancora qui e non solo è ancora qui ma non è ha i titoli di coda ma sta ripartendo ha trovato nuove sigle nuove pratiche questo è stato l'anno delle nuove pratiche l'anno scorso e i movimenti storici si stanno appunto come Fridays for Future ritrovando forza vuol dire che davvero non c'è alternativa non c'è davvero alternativa e si sta aprendo una nuova stagione e la radicalizzazione delle pratiche ma anche delle richieste anche contro governi tra moltissime virgolette amici vuol dire che davvero questo movimento non è qui per andarsene non è qui per andarsene e secondo me da quell'immagine parte un nuovo ciclo secondo me quella è la cosa fondamentale bene molte molte grazie purtroppo io ringrazio ancora Chiara e Ferdinando per averci dato degli spunti ci avete dato è stata una bella chiacchierata le belle chiacchierate vanno poi valorizzate sempre anche continuandole purtroppo non abbiamo tempo per fare delle domande dal pubblico e non abbiamo tempo nemmeno di continuare questa discussione perché ci sarebbero tante cose da dire e il libro di Ferdinando lo trovate nello spazio Sharebooks che vedete indicato sulla mia destra è brutto fare questa cosa della destra però intanto sulla vostra sinistra ecco che ci piace ci piace di più e io vi ringrazio ancora la questa era la penultima presentazione di stasera voglio solo dire una cosa proprio lasciatemi la conclusione non per narcisismo ma perché credo che questo dibattito meriti non una sintesi ma meriti a mio avviso una conclusione non so se sarà degna però io credo che ci troviamo sono anni che ci troviamo di fronte a un bivio anzi ci sono tanti bivi nella storia però questo è davvero importante prima nel corso del dibattito sono venute fuori tante cose probabilmente abbiamo parlato poco di guerra ma non perché non sia importante perché non c'è stato spazio della crisi della politica della crisi ecologica nel senso pieno di diseguaglianze io credo che ci sia effettivamente una linea conduttore Chiara dicevi bene queste lotte l'immagine di Greta non è solo l'immagine di Greta ma probabilmente di un'intera generazione e non solo di una generazione fa parte di quell'umanità ma intesa nel suo potenziale rivoluzionario forse questo è una cosa è un aspetto è un aspetto importante e probabilmente in questo momento il bivio è tra l'accettare aspettare che la crisi ecologica la guerra diventino sempre più qualcosa di irrefrenabile diventano sempre più parte della nostra vita oppure politicizzare sì politicizzare la politica il termine politica spesso troppo spaventato ma la politica è qualcosa che si costruisce così questo è un festival politico questo è uno spazio un centro sociale dal 1987 occupato che fa politica e costruisce politica il tema è quello di organizzare tu prima hai detto una cosa che mi è piaciuta molto c'è una disponibilità c'è una disponibilità al conflitto una disponibilità l'immaginazione una disponibilità a costruire realmente quella forza nuova forza creativa bene io credo che noi dobbiamo organizzarla e probabilmente questo è il compito della politica nel suo senso più pieno grazie ancora Ferdinando grazie Chiara e vi lascio a a un evento bellissimo che ci sarà tra poco su questo palco e cioè vi lascio ad Anna Irma Battino e a Massimo Carlotto tra pochissimo grazie ancora grazie a tutti